Godetevi le stupende caratteristiche di questa bellissima casa presentata da Berry Plant. Si presenta una grande opportunità perché questa grandiosa casa diventi tua. Questa proprietà vanta soggiorno intimo che offre calore e comodità alla famiglia. Questa proprietà è veramente rimarchevole. Fissate un appuntamento al più presto per vedere questa casa.